Il don della fortezza è energia soprannaturale che irrobustisce l'anima affinché l'azione dello Spirito Santo possa superare i pericoli e le difficoltà che si incontrano nella vita. Conferisce energia nella pratica delle virtù. Il cristiano impegnato come tutti sente il peso del caldo, del freddo, del lavoro, della sofferenza, ma con un'energia sovrumana continua ad avanzare nonostante tutte le difficoltà. Santa Teresa di Gesù scrive Avvenga quel che vuole avvenire, succeda quel che vuole succedere, ma a costo di morire per la strada si tenta sempre alla meta. Distrugge la tipidezza. La tipidezza, chiamata la tubercolose dell'anima, è dovuta alla mancanza di fortezza nell'esercizio della virtù. Molte anime si fanno sopraffare dalla stanchezza e dallo scoraggiamento nell'osservare con impegno anche le piccole norme e così si abbandonano ad una vita abitudinaria e passiva. È la fortezza che dà vigore all'anima e che costituisce la medicina efficace per eliminare questa malattia spirituale. Rende l'anima coraggiosa. Il dono della fortezza rende coraggiosi indianze ai nemici e a qualsiasi pericolo, anche quelli che mettono a ripentaglio la vita. Il Vancello ci presenta Pietro che dinanzi ad una servetta e rinnega il suo maestro. Poi muore con incredibile fermezza versando il suo sangue, riscattando la sua debolezza. Gli apostoli che abbandonano Gesù lasciandolo solo nei tristi momenti della passione, con coraggio si presentano davanti al popolo la mattina della Pentecoste, stimatizzando la responsabilità degli ebrei. Padre Pio fa sopportare la sofferenza. I santi di per sé non sono rassegnati. Essi non si rassegnano al dolore, ma lo abbracciano come mezzo di purificazione e santificazione. Padre Pio scrive, La sofferenza è un dono di Dio. Sembra sano questo pensiero, ma lo ripeto. Sono parole di Padre Pio. La sofferenza è un dono di Dio. La pazzia della cruce si manifesta con penitenza e macerazione compiuto col permesso del Padre spirituale. Altre volte, con pazienza eroica, i santi affrontano malattie e sofferenze di ogni specie. I mezzi per l'esercizio della virtù Il segreto della fortezza sta nel diffidare di noi stessi e confidare totalmente in Dio. L'esperienza ci dice che riescono ad essere forti proprio gli umili e i deboli, perché essi si abbandonano completamente a Dio. Alle anime superbe e presuntuoso, l'Apostolo Paolo dice Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Un altro elemento è avere profonde convinzioni di fede ed in particolare sul fine dell'uomo sulla necessità di impegno per sconfiggerlo. Non si dimenticherà mai che nulla ci renderà dinamici e forti quanto l'amore di Dio e dei fratelli.